Oggi è il secondo giorno, qua a Tokyo, siamo vicino a Shibuya, come si chiama questo posto, vicino? Noi stiamo andando al Menjinjin, che sembra che si chiami, che è il tempio cintoista, che dovrebbe essere qua davanti in un parco, e quindi ci stiamo recando lì, non abbiamo ancora mangiato, perché ci siamo svegliati stamattina alle 5, poi abbiamo provato a dormire ancora un po', alla fine ci siamo svegliati tardissimo, ovvio, qua stanno il caffè anche, forse, e non abbiamo mai trovato quelli di sassi. Quindi dopo le nostre prime vicissitudini nella metropolitana Tocchienze, finalmente siamo riusciti a nutrirci qua fuori, in un posto carinissimo. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il centro giovanile, i giovani vengono qua, i negozi, il cibo, i giovani, il manga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Allora, fammi vedere un po' di gadget giapponesi. Cos'è quello? Questo qui è quello che va bene per le persone come me, che fanno dei lavori pesanti mentalmente, penso. E' un refresher. Dimostrazione subito sul mio corpo, le mani sempre ai colpacci. E' così? Sì, perfetto. Sennò che dobbiamo cercare belle cose, penso, vabbè. Facciamo un giro al Tokyo Hands. Cos'è sta cosa? Vedete che c'è veramente di tutto? Costruisci. E' piatta così ed è piccola. Perché c'è, vedete grande come la mia mano. E viene questo, che cosa è questo? Tokyo Station. Cioè ci sono tanti monumenti. C'è anche Samurai. C'è anche Samurai, che figo. Qua siamo all'Electric Town. Naki Parà, di nuovo. Sì, è un palazzo. È un palazzo. È un palazzo. È un palazzo. È tutto di manga, cartoni mati. Sono un palazzo. Quei piani sopra, così, sono tutti manga. C'è un palazzo. È anche ho pi Grazie a tutti Grazie a tutti